Ingresso spiaggia di Macchitella, sono state da tempo collocate delle docce, dei rubinetti, ma in realtà non è mai arrivata l'acqua? Noi ci siamo tassati, abbiamo lavorato, abbiamo avuto assicurazione da parte dell'amministrazione comunale che ci avrebbero concesso il contatore e l'acqua ed è un servizio che è gradito e utile per tutti i cittadini, visto che le docce messe a suo tempo sono state tutte vandalizzate. Quindi questo sarebbe l'unico punto doccia di tutta la spiaggia di Gela. Quindi noi ci rammarichiamo enormemente del fatto che l'amministrazione comunale ancora una volta, perché non è la prima volta, non risponda ai bisogni dei cittadini. A chi sono state collocate queste docce? L'associazione Macchitella e il comitato di quartiere. L'associazione Macchitella le ha pagate e insieme al comitato di quartiere, ai volontari, le abbiamo sistemate. Come mai avete collocato le docce senza prima accertarvi che ci fosse l'acqua? Perché ci siamo fidati, come bisogna necessariamente fare, dell'amministrazione comunale. Quando un amministratore ti dice se voi lo fate e io vi metto l'acqua, non possiamo non fidarci di colui che è posto alla guida dell'amministrazione comunale. Avete protocollato richieste, seguito tutta la prassi? Ma non solo, anche per iscritto abbiamo poi reiterato le richieste, gliel'abbiamo ricordato. Non si trova un dirigente che fa il contratto per il contatore con Caltacqua. Cosa serve per attivare l'acqua? Il contatore dell'acqua, nulla di più. C'è tutto, abbiamo predisposto i tubi, abbiamo fatto tutto quanto. Ovviamente, visto che continuano a non arrivare risposte, tra qualche settimana noi li smontiamo e ce li portiamo a casa. Perché lasciare vandalizzare anche questi, inutilizzandole, non c'è verso. Oltre a fare l'appello all'amministrazione, non ritiene opportuno fare un appello anche al senso civico della collettività. Certamente l'amministrazione comunale ha le sue responsabilità, ma forse maggiori responsabilità sono anche della collettività. Denunciate sempre, chiamate sempre i carabinieri, chiamate noi dell'associazione Macchitella, chiamate il comitato di quartiere, chiamate la guardia costiera. Noi siamo ben disposti anche a telefonate nel cuore della notte, a riceverle e agire di conseguenza. Questo è il vero appello che bisogna fare, perché il vandolo non ha orecchie per ascoltare queste cose. Grazie a tutti.